Riccardo Verza e Stefano Gandin, che vestono entrambi la casacca della Zalf Euromobile Desiree Fior, hanno dominato domenica il classico 75esimo Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli, che si è disputato a Santa Croce sull'Arno, firmando una strepitosa doppietta. Una volata in coppia per i due ragazzi, che hanno resistito al ritorno degli inseguitori ed hanno chiuso la gara presentandosi assieme sul direzione d'arrivo e tagliando insieme il traguardo, con il primo posto che è comunque andato a Verza. Terzo classificato Fabio Garzi della Named Uptrivò. La gara è stata trasmessa in diretta su TVL. È la conferma che siamo una squadra forte a livello nazionale e internazionale. Non è mai facile lasciare una vittoria così, infatti devo un grande grazie a Gandin in merito alla squadra perché è davvero un gran bel periodo per tutti quanti, siamo sempre lì e alla fine raccogliamo quello che abbiamo dato per tutta la stagione. sta andando bene e speriamo di continuare così. Pensavamo che dopo in salita rientrasse un gruppetto, però siamo andati davvero davvero forti subito. L'ultimo giro eravamo un po' a tutta, stavano avendo un po' i crampi, però anche dietro ovviamente erano a tutta. Quando ho visto che cominciavamo a guadagnare 5-10 secondi ci abbiamo creduto e nel finale siamo arrivati con un bel vantaggio. Non siamo una squadrona noi, però ci aiutiamo sempre a vicenda. oggi mi hanno aiutato in gruppo un po' a darmi l'acqua e tutto, la dedico anche loro.